Non rispondo, io sono un pensionato. Una domanda in merito alla situazione attuale, nel senso il PD è sull'Aventino in questo momento. Quando uno non fa politica non deve disturbare coloro che la stanno facendo, soprattutto quando è una persona scomoda come posso essere io, perché qualsiasi cosa che io dico può essere equivocata o strumentalizzata. Quindi c'è scritto negli autobus di non disturbare il conducente. Noi non sappiamo neanche chi sia il conducente, quindi non possiamo proprio disturbare nessuno.